e vorrei iniziare condividendo con voi alcune riflessioni che credo non siano del tutto marginali. Se fare politica significa uscire dal proprio particolare per occuparsi della cosa comune, allora in questi sei mesi ho fatto politica. Se fare politica significa investire una parte del proprio tempo, una parte importante del proprio tempo, sto facendo iscrivati a votare il mio compito sistema per cattare del conto, La gioia vi illustrerà lo straordinario programma di tutti i miei edizioni. Lasciate solo che vi rubi alcuni minuti per richiamare l'attenzione sui nervi scoperti, che i mezzi di informazione non mancano di evidenziare quasi quotidianamente e che io voglio provare ad illustrarvi con trasparenza, evitando equivoci e fraintendimenti. Mi sono messo alla guida di questo manipolo di visionari, ma anche di instancabili entusiasti lavoratori, con l'umiltà dell'absolute beginner, del debuttante, ma anche con la feroce determinazione di chi vuole portare a casa il risultato. Consapevole di avere un preciso compito di supervisione e di garanzia, ma anche di gestione dei rapporti con tutti i player della partita. Ed è proprio in questo ruolo che voglio lanciare una serie di appelli, con l'unico scopo di richiamare l'attenzione di tutti sugli aspetti che, secondo me, richiedono la maggiore attenzione, affinché il Salone esca davvero e definitivamente dall'emergenza. Voglio quindi dire alle istituzioni, a tutte le istituzioni, che se davvero desiderate che il lavoro svolto non vada sprecato, che il risultato conseguito costituisca un punto di partenza e non un traguardo di cui compiacersi, allora programmate il futuro. Programmiamo insieme il futuro. Mettete a disposizione le risorse con le quali finanziare questa meravigliosa creatura e strizzo l'occhio, per esempio, alla Camera di Commercio. Pagate con tempestività, e adesso strizzo l'occhio alla Regione e al Comune, che peraltro ringrazio di cuore per la loro generosa disponibilità, senza sfiancare l'energia di chi è costretto a inseguirvi quotidianamente, attagliato dall'ansia di non poter far fronte ai propri impegni. E voglio dire agli imprenditori e commercianti del territorio che se davvero credete nell'importanza di questa manifestazione e alla sua ricaduta sull'economia dello stesso territorio, allora sostenetela. Sostenetela con generosità. Ricordate che si fa politica, e così mi rallaccio con quanto detto all'inizio, investendo tempo e investendo denaro, non aspettando o confidando che altri lo facciano. La cultura della solidarietà di cui tanto si parla si declina anche nella solidarietà per la cultura, strumento essenziale per comprendere i mutamenti profondi del presente, insostituibile patrimonio comune, garanzia di crescita e di sviluppo di un paese. E voglio dire ai mezzi di informazione, e in particolare alla stampa locale, di non strumentalizzare il salone evidenziandone prevalentemente le difficoltà e le criticità, che purtroppo non sono mancate e ancora non mancano. E qui voglio riferirmi in particolar modo ai recenti allarmi circa la disponibilità delle sale, ovvero le dimostranze dei librai circa gli spazi loro riservati, perché credo che non sia così che si lavora per il salone, ma di sottolinearne invece la vitalità, portandone a luce e enfatizzandone gli straordinari contenuti, contribuendo così a motivare la squadra che ci sta lavorando, senza alimentare un velenoso clima di sfiducia e di allarme. E vorrei dire ai cittadini, ai torinesi, ma qui solo di sfondare una porta aperta, perché innumerevoli sono le circostanze in cui l'avete dimostrato e anche oggi lo dimostrate, di continuare ad amare il vostro salone, il nostro salone, di quell'affetto genuino e incondizionato con il quale l'avete sempre sostenuto, contribuendo a legarlo indissolubilmente a questa città. Non ha senso ribadire oggi i ringraziamenti della precedente conferenza stampa, risulterebbero pleonastici e ridondanti. Però permettetemi di menzionare la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Il loro appoggio è stato il trampolino di lancio che ci ha catapultati fin qui. E qui è il momento in cui guardare fiduciosi al futuro. Non ci saranno i 400 mili visitatori del Salone del Mobile di Milano, ma credetemi, saranno comunque numeri da capogiro. E Torino, e questo è un richiamo mai attuale come oggi, come la Parigi di Hemingway, la Parigi fortemente colpita ieri sera, addolorata per quello che è avvenuto, ma con una capacità straordinaria di risollevarsi sempre, di credere nel futuro, di guardare avanti. Ecco, la Parigi di Hemingway, che è la Parigi di tutti noi, ecco, Torino, come quella Parigi, sarà ancora una volta per cinque giorni una festa mobile. Dall'alba al tramonto, alla notte inoltrata, un grande contenitore di eventi e di incontri aperti e accessibili a tutti, nel nome del libro e della cultura. Grazie a tutti e buon Salone. Eri, eccoci. Adesso tenterò di dondolare meno, perché mi hanno detto che l'altra volta facevo così, cercherò di stare ferma. Parto un pelo indietro, ma giuro che sarò sintetica e rapida. Allora, vi dico due robe di me, perché così capite meglio di cosa poi, perché parliamo di questa cosa. Sono cresciuta a metà tra due genitori, atei comunisti e una nonna, fortemente cattolica, che ha votato solo e sempre la democrazia cristiana. A un certo punto ho pensato di essere cresciuta dissociata e anche un po' confusa. E invece mi sbagliavo, perché in realtà mi hanno insegnato tutti la stessa cosa, l'amore per il prossimo. Di cui parte la mia storia di bambina, poi di ragazza, e oggi di donna adulta, madre e professionista, che crede in temi importanti per una società civile migliore, quali ad esempio il diritto allo studio, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute e le pari opportunità. Nella mia vita a fase alterne ho fatto qualche azione di volontariato. Nel 2001 collaboravo come volontaria appunto per un'associazione che si occupava di bambini disabili e si occupava di sport. Paradossalmente proprio in quel periodo feci un'ecografia di routine che mi fece scoprire che Riccardo sarebbe nato con un'importante disabilità. Da quel giorno la mia vita è cambiata ed è nata una meravigliosa grande avventura che è la mia vita attuale. Da Riccardo ogni giorno imparo qualche cosa e da lui ho sviluppato, con lui ho sviluppato ulteriormente questa passione per i temi dell'inclusione e dell'accoglienza. Quattro anni fa, quando sono arrivata alla Fondazione Circolo dei Lettori, ho trovato un bellissimo progetto che erano i volontari per la lettura degli ospedali. L'ho trovato bello e giusto e di lì sono partita con i colleghi per dare vita ad un progetto più ampio che oggi ha un nome e un'immagine e si chiama Leggere dappertutto. Leggere dappertutto è un'inserire di iniziative di responsabilità sociale e mira a coinvolgere chi troppo spesso rimane ai margini della società. I libri con le storie che racchiudono sono un bene comune che può e deve essere condiviso e noi li portiamo laddove ce n'è più bisogno proprio perché i libri possono diventare un potente ed efficace strumento di inclusione. Anche il Salone Internazionale del Libro parla dal lingua della sostenibilità lo fa da tempo con Marco Pautasso ad esempio attraverso due grandi progetti che sono pagina in corsia con le letture negli ospedali e volta pagina nelle case circondariali. In realtà a guardarla proprio bene la nostra attività, tutta la nostra attività è completamente ammantata di sostenibilità perché la nostra missione, la promozione del libro della lettura è alla base di molti dei goal dell'Agenda 2030. C'è un'altra ma è un'altra, la slide se riuscite a trovarla quella degli obiettivi ma non importa, io vado avanti. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono 17 sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono proposti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sono nati proprio per pensare, per garantire un ambiente economico e fisico favorevole agli uomini ovunque essi si trovino, in tutto il mondo e in grado di assicurare pari opportunità rispetto all'istruzione e al lavoro affinché noi si possa formare dei futuri cittadini di domani sani e produttivi per una società migliore. Gli SDGs, ovvero i goal, che non ci sono ma c'è una bellissima immagine di questi 10-7 goal della sostenibilità che raccontano quali sono i vari temi che fanno parte di questa agenda mirano a diminuire le disuguaglianze a porre fine alla povertà a risanare e salvaguardare l'ambiente ma anche a creare società senza guerre basate sulla giustizia e sul diritto al lavoro e alle pari opportunità. Il partenariato mondiale da cui nasce l'agenda e che dà vita allo sviluppo della stessa deve prevedere un'ampia gamma di compartecipazione di attori pubblici e privati provenienti dalla società civile. La cooperazione deve rappresentare gli interessi di tutti gli attori principali anche gli interessi di coloro i quali non possono prendere decisioni direttamente. Quindi, per sfadare un mito errato quando si parla di sostenibilità non si parla solo di ambiente ma di molto altro e il Salone Internazionale del Libro vuole assumere appieno il proprio ruolo di grande cassa di risonanza sociale per fare in modo di raccontare cosa sia la sostenibilità. Ovviamente si tratta solo di un primo piccolissimo passo che porterà negli anni a venire ad una manifestazione sempre più socialmente responsabile e sostenibile. Ringrazio Stefania Farina che da anni si occupa di questi temi una grande professionista che si occupa di questi temi da circa dieci anni che ci ha guidato nella costruzione del board della sostenibilità del Salone Internazionale del Libro. Io credo che il Salone Internazionale del Libro sia la prima manifestazione in Italia che si sia dotata di questo board e di questo sono molto contenta e di questo board fanno parte fa parte un gruppo di importanti soggetti pubblici e privati a partire dal nostro territorio. Prendo fiato? Prendi fiato anche tu? Allora, del board fanno parte ovviamente oltre alla fondazione e all'associazione Torino la città del Libro anche la regione Piemonte, la città di Torino l'Università degli Studi di Torino il Politecnico di Torino e l'Università di Scienze Gastronomiche. Alcune aziende alcune che sponsorizzavano già il Salone Prime altre nuove che hanno deciso di aderire a questa importante missione che sono la Vaz, Areale Mutua e Costa Crociere e altre ne imbarcheremo nei prossimi giorni la Scuola di Alto Perfezionamento Altis dell'Università Cattolica il Global Impact e il World Food Program che sono agenzie delle Nazioni Unite e last but not least ovviamente ASVIS che è l'alleanza internazionale italiana per lo sviluppo sostenibile nata nel 2016 proprio per far crescere il tema della sostenibilità nel nostro paese grazie quindi a tutti questi soggetti per averci seguito in questa missione e per aver portato la vostra grande competenza in materia senza di voi non avremmo fatto niente il primo segnale tangibile di questo board e di questa missione che ci siamo dati sarà un convegno si terrà ovviamente al Salone Internazionale del Libro sabato 11 maggio alle 15 in Sala Magenta se non sbaglio e si porrà come obiettivo quello di dare concretezza e un contributo autorevole al tema della sostenibilità il prossimo passo è il nome in codice significativo che abbiamo deciso di dare a questo nuovo cammino del Salone e nei prossimi giorni all'interno del programma del Salone troverete alcuni appuntamenti logati con il simbolo dell'agenda che è quel circolino colorato pieno di raggi che indicherà gli incontri in cui il tema sarà in linea con gli obiettivi dell'agenda stessa vi chiediamo solo qualche giorno di pazienza perché è un work in progress concludo in un articolo pubblicato sul UN Chronicle da Nicky Seth che è il direttore della divisione per lo sviluppo sostenibile del ripartimento degli affari sociali ed economici presso le Nazioni Unite sottolinea che nell'ambito del partenariato mondiale per lo sviluppo gli attori pubblici privati devono promuovere collaborazione ad ogni livello l'una a completamento dell'altra ecco noi lo stiamo facendo e spero vivamente sia solo l'inizio di un'altra grande avventura per il nostro grande salone del libro grazie a tutti buongiorno buongiorno a tutti dal 18 febbraio giorno in cui siamo diventati definitivamente proprietari del marchio del salone sono passate solo otto settimane ne mancano ancora tre quindi abbiamo il 30% del tempo ancora di lavoro davanti è fisiologico che alcune parti siano in ritardo ma possiamo davvero oggi raccontare che cosa sarà il salone siamo partiti con il pensare all'esperienza che le persone devono fare all'interno del salone abbiamo pensato agli espositori ai giornalisti ai tecnici della comunicazione alle scuole ai professionisti del mondo dell'editoria ed ovviamente abbiamo pensato anche al grande pubblico come un mantra ci ripetiamo un po' in testa più servizi più servizi più servizi dobbiamo assolutamente migliorare l'esperienza degli utenti al salone difficile dire se ci riusciremo a migliorare l'esperienza di tutti ma di sicuro ci stiamo mettendo tutto l'impegno necessario prima di descrivere il lavoro svolto fatemi ringraziare i nostri partner Lavazza Reale Mutua Valmora Cantine da Milano Gobino IBS Automoto Club Storico Italiano Mercato Centrale e OGT la partita con i partner non è ancora chiusa credo che ce ne sarà qualcuno in più ma intanto grazie a voi che dimostrate di voler bene al salone e molti di voi lo hanno dimostrato nell'arco degli anni al salone come vedremo tra poco si potrà venire in tutti i modi a piedi in bicicletta che nell'ottica di quello che ha appena raccontato Maurizia credo sia sempre il miglior modo di raggiungerci in metropolitana la fermata Lingotto avete su Via Nizza chiaramente è l'ingresso storico del salone sempre su Via Nizza potrete arrivare in autobus peraltro con GTT abbiamo pensato anche all'uscita installeremo delle comode biglietterie all'interno della galleria visitatori per permettervi di fare il biglietto prima di tornare a casa in auto potete impostare Via Mattetrucco e parcheggiare nei comodi parcheggi che ci sono tra l'ingotto tra la struttura Lingotto e la ferrovia e utilizzare l'ingresso oval che quest'anno sarà disponibile per tutti non soltanto per i visitatori ma anche avremo anche le reception e quindi anche per tutti gli addetti ai lavori in treno grazie alla partnership con Trenitalia che ringrazio abbiamo costruito una tabella sconti sia col trasporto frecciarossa che con i treni interregionali nella conferenza stampa di Murazio avevamo annunciato che gli ingressi sarebbero stati due completi appunto di biglietterie e reception invece sarà perché il numero 3 è sempre stato legato al nostro percorso siamo riusciti grazie alla collaborazione del comune di Torino e della regione Piemonte ringrazio il presidente e la sindaca perché gli uffici hanno lavorato su questo e quindi abbiamo abbiamo sicuramente fatto un gol importante per riferito a Maurizia grazie anche al gruppo delle ferivie dello Stato in particolare alle due aziende del gruppo delle ferivie dello Stato cioè la rete ferroviaria italiana e Trenitalia abbiamo creato un terzo ingresso dalla stazione di Ingotto si accederà direttamente al salone costruiremo una passerella che supera il binario 9 e porterà direttamente all'interno del salone tutti coloro che dal basso Piemonte dalla Liguria e dall'Emilia Romagna prendono il treno per venirci a trovare questo ci permetterà di rivoluzionare logisticamente la manifestazione il salone sarà un vero grande evento internazionale il salone del libro come il fiore all'occhiello di questo territorio valorizzerà in pieno l'organizzazione urbana di una città e di una regione credo straordinari visto che sono qua faccio una piccola raccomandazione quando arriverete agli ingressi mi raccomando leggete bene la segnaletica stiamo costruendo delle corsie per ogni tipologia di utenza e ci aiuterete sicuramente in questo modo il nostro servizio di accoglienza come detto abbiamo esteso la superficie del salone saranno 63.000 metri quadri di libri di libri da comprare da raccontare da scambiare da dibattere per prima cosa gli editori come abbiamo raccontato fin dall'inizio saranno in tutti i padiglioni abbiamo cercato di stare attenti di non creare spazi di serie A e di serie B ma di ragionare con loro in un grande lavoro svolto sull'intera planimetria siamo ancora al lavoro dal punto di vista commerciale ma il salone sarà pieno e tutti avranno la loro visibilità ci saranno 40 sale che ospiteranno gli incontri che Nicola dopo vi snoccellerà con la sua consueta maestria saranno sale di tutte le tipologie dai 40 ai 700 posti si è tanto parlato delle sale ne ha già parlato anche Giulio di che fine faranno le sale colorate c'è un aste in corso che scade dopo domani e ne parleremo quando avremo tutte le informazioni del caso come ho già detto tutti qui vogliamo venire al salone e dalla fine una soluzione la troveremo ma non credo possa essere trovata prima del prossimo weekend la notte scorsa c'è stata una stretta di mano con il dottor Mancini che ringrazio DG e Levenze quindi abbiamo pressoché definito anche l'accordo con la location e nei prossimi giorni ve ne renderemo nota con Autogrill S.p.a e in particolare con la loro divisione motobanketing abbiamo sviluppato i servizi legati al food e alla ristorazione ci saranno 18 bar abbiamo creato tre ristoranti nuovi dedicati al pubblico e due dedicate agli espositori sul piazzale davanti all'Oval troverete anche un area food dedicata al cibo di qualità attraverso la collaborazione con alcuni partner di sicuro ci sarà Rosso Pomodoro e ci sarà Guido Gobino ma l'area è ancora in costruzione aggiungeremo ancora delle parti una cosa non meno importante con l'annessione dell'Oval ci saranno anche sette blocchi di toilette in più che da sempre da sempre chiudo con i progetti speciali un dato su tutti l'IBF è già a 480 iscritti provenienti da 34 paesi abbiamo una crescita netta e stanno tutti andando molto bene avremo il read and play il leggere e giocare il super festival tornerà al progetto gastronomica con Slow Food Slow Food Editore e con IBS che ci sta aiutando in quest'impresa e sappiamo già che per il Bookstoke Villa ci sono più di 20.000 bambini e di ragazzi prenotati quindi che dire venite al salone direi che ci sono tutti i margini per una grande festa allora buongiorno alle origini dell'uomo l'architettura è stata il grande libro dell'umanità quando la memoria dei primi uomini si sentì sovraccarica quando il bagaglio di ricordi divenne così pesante che la parola orale rischiò di perdere quei ricordi lungo il cammino si pensò di scriverli sul suolo l'architettura cominciò come tutte le scritture dall'alfabeto si piantava dritta una pietra ed ogni pietra era una lettera e ogni lettera e su ogni lettera riposava un gruppo di idee così fece l'uomo dovunque nello stesso momento sulla superficie della terra questa è una citazione da Notre Dame de Paris di Victor Hugo oggi il nostro pensiero va lì a Notre Dame a questo magnifico libro dell'umanità l'anno scorso la Francia è stata il paese ospite del salone del libro di Torino e l'istituto francese è anche nostro partner anche quest'anno li accoglieremo a braccia aperte ora perché noi siamo così sconvolti da quello che è successo a Parigi perché intorno all'arte e alla cultura si raccoglie e si riconosce la comunità umana qualche volta ce ne dimentichiamo però poi quando l'appiglio viene meno ci sentiamo smarriti ecco il salone del libro da 32 anni è un luogo intorno a cui una comunità cerca di riconoscersi attraverso la cultura e la letteratura e adesso possiamo cominciare a parlare del programma del salone del libro un doppio applauso io farei a Nadi Domizio alla lingua dei segni il maestro Dave Zagnerato alla console direi che si può cominciare il gioco del mondo sta per cominciare qual è il mondo in cui noi ci troviamo a vivere è un mondo molto più complicato molto più turbolento rispetto a quello che ci saremmo aspettati di abitare una trentina d'anni fa quando cadde il muro di Berlino su tutto questo il salone ragionerà su tutto questo ce ne ricorderemo di questo pianeta diceva Leonardo Sciascia ecco allora cominciamo a 30 anni dalla scomparsa di Sciascia sarà dedicata a lui la serata la preinaugurazione del salone l'8 maggio un'intervista impossibile a Leonardo Sciascia uno spettacolo teatrale con la regia di Veronica Cruciani con Fausto Russo Alesi Linda Caridi e il testo di Cristian Raimo Sciascia Leonardo Sciascia è stato un grande scrittore europeo di Europa al salone si parlerà molto il 9 maggio come sapete ci sarà la lezione inaugurale del salone che sarà affidata a Fernando Savater uno dei grandi pensatori europei a cui abbiamo affidato il compito di raccontarci che cos'è l'identità culturale del nostro continente dell'Europa Fernando Savater è nato a San Sebastian nei paesi baschi in Spagna come sapete quest'anno il salone ha non un paese ospite ma una lingua ospite lo spagnolo e c'è anche un luogo fisico la plaza de los lectores dove ogni ora ci saranno incontri letture tavole rotonde ci sarà una biblioteca e una libreria così giusto per mettere per puntualizzare che sarà gestita dai colti contrariamente a quello che leggevamo oggi sui giornali i consorzi dei libri indipendenti torinesi che sono qui che se vogliono smentire lo possono fare non smentiscono quindi vi confermo che è così diceva Carmelo bene che la stampa a volte informa i fatti e non sui fatti che c'è una differenza poi la giornata di giovedì comincerà dunque dalla Spagna come dicevamo con Fernando Savater e finirà in gloria in America Latina perché se dovessimo immaginare due nomi tutelari di questo salone del libro beh quelli sarebbero Julio Cortazar e Roberto Bolagno e allora uno dei più grandi attori capaci di leggere la letteratura di farsi possedere letteralmente dagli scrittori che ama vale a dire Fabrizio Gifuni dedicherà a Cortazar e a Bolagno il più bello omaggio che vi capiterà di vedere in vita vostra a questi due scrittori sarà meglio di una seduta spiritica perché lo spirito di Cortazar e di Bolagno diventerà nel corpo e la voce di Fabrizio Gifuni così come a proposito di grandi attori ci sarà Neri Marco Re che farà una bellissima lettura dall'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez e poi a proposito appunto di letteratura in lingua spagnola Luis Sepulveda e Giancarlo De Cataldo Luis Sepulveda e Giancarlo De Cataldo sono vecchi amici proveranno a raccontarci come vedono il mondo fra Europa e America Latina nel 2019 parleranno di letteratura di politica di mondo e come un continente influenza l'altro sia nel bene che nel male eccoli là poi la cosa bella del salone lo vedrete durante questo racconto è che fa incontrare degli scrittori degli autori degli intellettuali che altrimenti non verrebbero a contatto pubblicamente fra di loro cioè accadono delle cose che poi o le venite a vedere al salone o forse non le vedrete mai Luis Sepulveda è uno degli scrittori in lingua spagnola più letti in tutto il mondo poi però c'è uno degli scrittori in lingua spagnola più audaci di tutto il mondo esploratore dell'abisso grande spirito della letteratura contemporanea Enrique Villa Matas sarà con noi a Torino qualche anno che lo inseguiamo finalmente ci ha detto di sì ecco la pausa per Villa Matas ora a proposito di esploratori di mondi e di culture al salone abbiamo invitato un lettore molto particolare che è un lettore che fa dischi e concerti lo abbiamo invitato a parlare di letteratura di scrittura di linguaggi di viaggi lui tra l'altro è proprio un grandissimo amante anche di cortasa della letteratura latinoamericana Lorenzo Cherubini giovanotti sarà al salone del libro intervistato da Giordano Meaci tra l'altro scusate nell'anno del gioco del mondo come non invitare l'autore dell'ombelico del mondo e poi ancora per continuare come dire in salsa spanoamericana tra l'altro proposito poi là c'è il pisco che sarà forse non sapete che cos'è ve lo fate poi spiegare che sarà offerto lì nell'angolo quindi si beve anche in questa conferenza stampa al salone ci sarà anche quello che forse a proposito passando il Cile la Spagna andiamo in Argentina la grande tradizione letteraria argentina forse quello che oggi è lo scrittore argentino più importante vivente vale a dire Alan Pauls che sarà appunto con noi al salone del libro di Torino e poi continuo con i nomi Antonio Munoz Molina dalla Spagna Juan Viglioro dal Messico Clara Sanchez pure dalla Spagna Claudio Pignero dall'Argentina Leonardo Padura da Cuba Nona Fernandez dal Cile Guadalupe Nettel ed Emiliano Monge dal Messico Catrina Sainsborgo dal Venezuela e tanti altri che hanno accettato di far parte di questo bellissimo bellissimo progetto ci sarà poi una lezione proposta di Cortazar di Ernesto Franco e ci saranno anche lì tavole rotonde in cui questi autori si mescoleranno fra di loro per esempio a un certo punto curato da Inquentro Luis Sepulveda Claudio Pignero ed Emiliano Monge faranno un incontro che si intitola alla letteratura latinoamericana loro che sono latinoamericani non esiste ci sarà spazio anche per il fumetto questo nome dirà che è un grande spirito del fumetto argentino degli ultimi degli ultimi 30-40 anni purtroppo un desaperasido Hector Esterel l'autore dell'Eternauta a Esterel sarà dedicata sarà dedicata una grande vedo che qualcuno si emoziona come mi emoziono anch'io allora c'è anche una cosa bella a proposito di Esterel e dell'Eternauta Franco Solano Lopez era il disegnatore dell'Eternauta ma a bottega da Franco Solano Lopez ci andava un giovanissimo disegnatore che disegnava i chicchi di neve che cadevano su Buenos Aires all'inizio dell'Eternauta vale a dire José Mugnoz e José Mugnoz verrà appunto al Salone del Libro di Torino a raccontarci se stesso devo dire che l'Eternauta fu abbastanza rivelatorio perché fu una distopia sull'America Latina mentre sull'America Latina e sull'Argentina si stava per abbattere come dire una grande tragedia quella della letteratura della letteratura no della dittatura la letteratura è una tragedia quando non la si comprende e l'ultima volta che ho visto Mugnoz mi ha detto attenzione amico mio depressione lucidità chiaroveggenza sono tre sorelle che si prendono per mano lui è sempre così castigo vediamo che cosa verrà a dirci a raccontarsi Mugnoz al Salone del Libro di Torino facciamo delle piccole pause perché così posso bere ovviamente spagnolo a parte a Torino arriveranno scrittori da ogni angolo del mondo ci sarà l'abbiamo detto l'altra volta Voleso Inca premio Nobel per la letteratura dalla Nigeria grande poeta narratore saggista drammaturgo anche grande osservatore della vita politica e dei rapporti fra Africa Nord America e appunto Europa quindi Voleso Inca sarà al Salone del Libro di Torino e poi dal Vietnam agli Stati Uniti Vietan Wyn il vincitore del premio Pulitzer con il romanzo Il Simpatizzante cioè uno degli scrittori più importanti dell'ultimo decennio il suo romanzo è stato considerato all'unanimità una delle cose più potenti successe negli ultimi anni alla letteratura sono anni che noi inseguiamo Vietan Wyn e finalmente appunto quest'anno sarà al Salone del Libro di Torino così come avremo Matt Salinger il figlio di J.D. Salinger proprio nell'anno in cui il papà del giovane Holden avrebbe compiuto cento anni Salinger è uno degli scrittori più letti e più amati di sempre tra l'altro non ha soltanto creato un personaggio indimenticabile come Holden Caulfield ma è anche stato un maestro della forma racconto della forma breve i nuovi racconti di Salinger ancora oggi sono come dire un testo indispensabile per chiunque voglia cimentarsi in questo genere letterario è tanto letto quanto come dire elusivo Salinger così il suo figlio verrà a raccontarci qualcosa di questo straordinario scrittore poi c'è il vincitore del premio mondello internazionale come sapete ogni anno a Torino viene assegnato il premio mondello internazionale c'è un giudice monocratico che quest'anno è Giorgio Fontana che ha deciso di premiare Colum McCann Colum McCann è nato in Irlanda vive a New York ha vinto il National Book Award per questo libro questo libro questo bacio va dal mondo intero che è uno dei libri dei romanzi più amati dell'ultimo decennio Colum McCann sarà con noi a Torino io ringrazio il premio mondello internazionale che ogni anno ci porta questi grandi scrittori il salone è anche molto attento ai generi per esempio il noir il giallo e così quest'anno avremo la regina del giallo scandinavo Camilla Lackberg amatissima dei lettori italiani verrà a raccontarci la sua vita e il suo lavoro e poi come sapete dall'anno scorso al salone si assegna ecco qua i giornalisti devono essere veloci perché lo annunciamo adesso si assegna il premio strega europeo quindi adesso vi annunciamo i finalisti i finalisti verranno appunto al salone e poi domenica verrà decretato il vincitore e i finalisti del premio strega europeo di quest'anno che verranno al salone sono dall'Irlanda Catherine Dunn con Come cade la luce Catherine Dunn è una scrittrice molto amata dei lettori italiani siamo felici di averla a Torino in Italia è pubblicata da Guanda e poi appunto dall'Irlanda Catherine Dunn è invece David Diop nato in Francia cresciuto in Senegal con Fratelli d'Anima edito da Neri Pozza e ancora dall'Austria Robert Menasse con La Capitale il romanzo in cui racconta Bruxelles che a seconda di come la volete vedere è il centro d'Europa o il centro della paralisi come diceva Joyce di Dublino quindi insomma un libro molto attuale pubblicato da Sellerio dall'Austria alla Germania c'è poi Sasha Mariana Salzman quarta finalista dello Strega europeo con il romanzo Fuori di sé che è pubblicato in Italia da Marsilio e infine Ilia Leonard Pfeiffer nato in Olanda autore di un libro molto fortunato in Patria e Fuori la superba edito in Italia da Nutrimenti io ringrazio veramente Giovanni Solimine Stefano Petrocchi la famiglia Alberti per portarci i finalisti dello Strega europeo e arriveranno a Torino anche i vincitori del primo Strega ragazze e ragazzi per esempio potremo fare gli auguri per i suoi 80 anni li avrà compiuti da poco quando sarà al Salone a Claudio Magris di cui è anche in uscita un nuovo libro quale posto migliore del Salone per venire a condividere tutto questo con i suoi lettori e poi una lettrice una scrittrice come dire molto particolare della letteratura italiana vale a dire Giun Palairi Giun Palairi altra vincitrice del premio Pulitzer è una grande amante della letteratura dell'arte della cultura italiana alla letteratura italiana del novecento Giun Palairi ha dedicato un'antologia di 40 racconti di scrittori italiani di cui verrà a parlare quindi come dire gli italiani visti da chi appunto da chi li guarda da fuori verrà a parlare a Salone del libro di Torino e poi Salone è anche un luogo di incontro fra grandi personalità della letteratura per esempio avremo un dialogo fra Walter City e Michele Mari e poi abbiamo un sacco di scrittori scrittrici italiani io ne dico qualcuno perché non come dire sono 1200 incontri per quanto la conferenza stampa è lunga non mi rischierei a dirgli tutti Antonio Manzini Marco Malvaldi Marco Missiroli Stefano Benni Francesco Picco Antonio Scurati Michela Murgia Evelina Sant'Angelo Edoardo Albinati Annarlena Benini Michela Marzano Giordano Tedoldi Lidia D'Aravera Gianrico Caro Figlio Emanuele Trevi Simona Vinci Matteo Nucci Nadia Terranova Francesco Pecoraro Antonio Pennacchi Mauro Covacic Giancarlo De Cataldo abbiamo già citato Ascanio Cevestini Evanni Santoni Elena Stancanelli Pietrangelo Buttafuoco Teresa Ciabatti Sandro Veronesi e tanti altri su di Kraftwerk di Trans-Europe Express ovviamente si parlerà molto d'Europa come dicevo al Salone del Libro Fernando Savater aprirà la manifestazione con una lezione come dicevo sull'identità culturale europea però l'Europa e naturalmente anche le sue radici mai come ieri ce ne siamo resi conti così Paolo Rumiz ha intrapreso un viaggio per i monasteri d'Europa all'ideale ricerca degli uomini che riuscirono a salvare il nostro continente oltre mille anni fa verrà a raccontarci tutto questo così come Enri De Luca ci parlerà dell'Europa di oggi di quella che ha davanti agli occhi a che a lui sembra un campo base avanzato questo è il titolo della lezione di Enri De Luca l'Europa e anche il suo rapporto con la Russia da sempre la Russia come la Turchia sono forse per l'Europa due specchi dentro cui riconoscersi attraverso l'altro dai tempi di guerra e pace ad Arcipelago Gulag dall'epoca di Nicola II a quella di Putin allora c'è Masha Gessen vincitrice del National Book Award con un libro bellissimo che racconta il passaggio dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica alla Russia di Putin verrà appunto sarà uno dei grandi ospiti un altro dei grandi ospiti del Salone così come appunto dicevo prima la Turchia dalla Turchia Ece Temelkuran che è probabilmente la scrittrice intellettuale turca più letta al mondo vincitrice del premio PEN per la pace ha osservato quello che è successo negli ultimi anni nel suo paese in Turchia ha scritto un libro significativamente intitolato come sfasciare un paese in sette mosse e questo sfascio lei lo vede anche in una parte d'Europa quindi verrà a raccontarci tutto questo Ece Temelkuran che però abbiamo messo in dialogo con un grandissimo storico contemporaneo vale a dire Donald Sassuno quando dicevo che il Salone cerca in qualche modo di mettere insieme delle grandi personalità intendevo questo e poi Bernard Guetta uno dei giornalisti politici più noti nel nostro continente ha intrapreso un viaggio per raccontare l'Europa del sovranismo in un reportage dove si mescolano esperienza e riflessione e poi l'Europa ovviamente ha anche i suoi grandi pensatori Niccolò Machiavelli a Machiavelli hanno dedicato un libro sia Alberto Sorrosa che Carlo Gisburg e verranno a parlarcene così come Massimo Cacciari darà una lettura non convenzionale dell'umanesimo e poi l'Europa l'Europa è stata anche e magari continuerà a esserlo anche i suoi esperimenti più audaci e libertari e allora ci sarà Giordano Bruno Guerri che racconterà fiume a cento anni dall'impresa di D'Annunzio e Giordano Bruno Guerri è un irregolare a noi gli irregolari piacciono e quindi lo abbiamo invitato al salone e anche lui sarà dei nostri il salone del libro ha anche un'anima pop prima citavo Giovanotti è in grado di mescolare musica spettacolo sport e allora per esempio quest'anno per cambiare completamente punto di vista verrà a trovarci un testimone della vita del paese degli ultimi 50 anni osservati da un punto di vista molto particolare cioè Pippo Baudo che sarà intervistato lui anziché intervistare da Valeria Parrella vediamo come se la caveranno l'uno come dire rispetto all'altro ci saranno Luciano Littizzetto ci sarà Piff Pierfrancesco Di Liberto e poi avremo insieme due scrittrici popolarissime come Sophie Kinsella e Yo-Yo Moses vale a dire da una parte la regina del ciclit e dall'altra l'autrice di Io Prima di Te che è un romanzo che ha venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo e poi appunto dicevo la musica nel 2019 sono 25 anni dalla morte di Kurt Cobain allora noi abbiamo intervistato abbiamo invitato il manager di Nirvana Danny Goldberg che insomma colui che sa per esperienza personale come tutto quanto è iniziato che verrà a raccontarci Danny Goldberg la scena di Seattle è lo spirito di un'intera epoca sono passati appunto 25 anni e poi avremo altri protagonisti della musica italiana come per esempio Achille Lauro Franca E Energy tanti altri poi li vedrete io come dire vi accenno qualcosa perché il programma è lunghissimo sono più di 1200 appuntamenti poi lo sport lo sport il salone è anche molto vicino alla cultura sportiva allora per esempio secondo degli amanti del modulo a zona uomo non so avremo Arrigo Sacchi Marsimiliano Allegri Gianluca Vialli il lunedì ovviamente per ovvi motivi e poi a proposito di sport ci sarà Massimo Fini con Giancarlo Padovan per una storia reazionaria del calcio italiano e poi poi il cinema il cinema il rapporto mai come in questi anni guardate il rapporto fra cinema televisione e letteratura è vivo pensate soltanto a tutte quante le serie tv no la maggior parte delle serie tv ieri c'era qualcuno ha fatto tardi per guardarsi Game of Thrones Game of Thrones appunto nasce da un libro House of Cards nasce da un libro e così via allora noi all'IBF prima Silvio diceva come l'IBF abbia aumentato di anno in anno abbiamo aumentato i nostri partner internazionali si occupa anche di cinema con Book to Screen lo dicevo l'altra volta noi mettiamo insieme produttori cinematografici produttori televisivi broadcaster televisivi ed editori perché gli editori vendono i contenuti ai broadcaster e quelli li trasformano in film e serie tv quindi ci sarà Netflix ci sarà HBO ci sarà Ray Cinema ci sarà Cat Leia e tutti insomma i vari prodotti abbiamo anche la fortuna quest'anno che non c'era sovrapposizione fra il Salone e Cannes Cannes inizia subito dopo e quindi come dire in qualche modo noi ce ne avvantaggiamo ma invitiamo anche dei grandi autori dei grandi registi ecco qualche giorno fa grazie alla Milanesiana abbiamo fatto un incontro bellissimo a Milano con Alexander Sakurov uno dei grandi dei grandi anime come dire del cinema europeo tra l'altro ringrazio la Milanesiana ringrazio Book Pride e ringrazio Book City perché grazie a queste realtà noi abbiamo ricomposto un dialogo finalmente sensato e sano fra Torino e Milano e però veniamo anche a chi ci sarà i registi abbiamo invitato due grandi registi quest'anno al Salone allora uno è veramente un regista leggendario del cinema indipendente del cinema indipendente americano per lui hanno lavorato attori come William Defoe Harvey Keiter Christopher Walkman Steve Buscemi Benicio Del Toro il suo ultimo film di finzione ispirato tra l'altro alla figura quindi vicino anche alla letteratura di Pierpaolo Pasolini Abel Ferrara verrà al Salone del Libro di Torino e poi appunto un grande regista americano e un grande regista italiano Savero Costanzo verrà al Salone del Libro di Torino per l'amica geniale Elena Ferrante da qualche anno è un'ambasciatrice della cultura italiana del mondo attraverso i libri ma anche attraverso adesso la serie tv di Savero Costanzo e Savero Costanzo appunto sarà con Alvaro Orvacher e Goffredo Fofi al Salone del Libro di Torino poi festeggeremo come dire il problema non è Homer Simpson in sé ma Homer Simpson in me ognuno di noi dovrebbe ogni giorno come dire farsi questo mantra festeggeremo i 30 anni dei Simpson con la Fox e poi anche La Guerra dei Mondi tratta dal romanzo di H.G. Wells sarà come dire un altro evento cinematografico letterario che animerà i 5 giorni e le 5 notti del Salone del Libro di Torino come sapete quest'anno ieri c'è stata una lezione di Marco Belpoliti c'è il centenario della nascita di Primo Levi grazie al centro Primo Levi il Salone celebrerà la sua opera con incontri e tavole rotonde a Primo Levi dedicata una mattina di studi arricchita dal ricordo fondamentale personale di Ernesto Ferrero che vedo lì io lo guardo sempre Ernesto per avere l'approvazione di quello che stiamo facendo e magari un applauso si può anche fare e poi su Primo Levi una tavola rotonda qui prendono parte Elena Janicek Vlodek Goldkorn Marco Malvaldi Telmo Pievani Tommaso Pincio che sarà coordinata da Valeria Parrella però a proposito di Primo Levi perché noi siamo sempre guardiamo sempre al passato in qualche modo per capire più o meno per aprirci una breccia su dove andare su qual è un futuro abitabile su qual è un futuro in cui valga la pena di vivere e allora siccome la dignità dell'uomo va difesa a ogni generazione e dal momento che esclusione violenza e prevaricazione hanno un posto a tavola anche nel XXI secolo questo è un uomo è la sezione del Salone del Libro attraverso cui cerchiamo di ribadire la centralità e la sacralità di ogni essere vivente di ogni vita umana anche nel XXI secolo allora Paola e Claudio Regeni i genitori di Giulio Regeni apriranno il Bookstock Village insieme a Marino Sinibaldi e incontreranno gli studenti perché incontreranno gli studenti perché racconteranno agli studenti quanto è importante ma anche quanto è difficile e complicata la ricerca della verità anche no in questi in questi anni qui così come ci verrà a trovare Tatiana Bucci Tatiana e Andra Bucci finirono ad Auschwitz quando erano quando erano bambine per essere utilizzate come cavie per gli esperimenti del dottor Josef Mengele furono fra le poche a sopravvivere oggi sono dei testimoni attivi dell'olocausto e verranno appunto a raccontarci la loro storia hanno scritto un libro bellissimo e poi appunto sui temi delle migrazioni per esempio ci sarà un incontro fra Mimmo Lucano e Abubakar Sumahoro così come avremo la testimonianza di Cristina Cattaneo con Vito Mancuso guardate Cristina Cattaneo è una persona eccezionale lei è professore ordinario di medicina legale è coinvolta nella identificazione dei migranti morti in mare in particolare nei naufragi di Rampedusa del 3 ottobre del 2013 e del 18 aprile del 2015 nel suo libro lei racconta l'importanza di ridare nome a quelli che altrimenti sarebbero esseri umani dimenticati per sempre verrà raccontarci tutto questo al salone poi ci sarà Roberto Sabiano che come dice Senza Frontiere ci racconterà è di migrazioni contemporanee e farà un omaggio a Corrado Alvaro e poi avremo Timothy Radcliffe Timothy Radcliffe è dominicano è uno dei più importanti teologi contemporanei che ci racconterà che cosa significa credere in Dio nel ventunesimo secolo e poi un gruppo di scrittori italiani racconterà invece il nostro scontento sono Silvia Ballestra Mauro Kovacic Antonella Lattanzi ed Evelina Sant'Angelo che cosa hanno fatto che cosa stanno per fare intraprenderanno un viaggio per raccontare un paese il nostro divorato dallo scontento dalla frustrazione dalla rabbia dalla sindrome del peggior trattamento dalla paura che ci accomuna tutti quanti di essere in qualche modo sfruttati a vantaggio di qualcuno che di volta in volta o anche giorno in giorno assume in qualche modo un diverso profilo tutto questo in collaborazione con Radio 3 con Tre Soldi ci sarà questa immersione nel paese nella pancia del paese per poi venirci a raccontare che cosa che cosa hanno visto e dicevo che ci sarà un incontro importante con Medici Senza Frontiere e poi appunto questa cosa avremmo voluto annunciarla già l'altra volta ma non l'avevamo fatto in tempo e ci sono qui i loro rappresentanti che saluto ci sarà uno spazio molto importante curato da Action Aid Action Aid è un'organizzazione internazionale che lavora per combattere le disuguaglianze nel mondo e migliorare la qualità della democrazia a Salone Action Aid porterà un progetto che si chiama Vivicrazia che cos'è? i visitatori del Salone con i propri cellulari potranno giocare a disegnare il loro avatar a seconda scegliendo fra gli stili di diversi disegnatori di fumetti e poi saranno invitati a rispondere a un questionario sulle urgenze per la democrazia saranno anche ovviamente coinvolte le scuole e i ragazzi in questo gioco che come tutti i giochi però è una cosa molto seria e le riflessioni e le considerazioni fatte con i giovani soprattutto diventeranno alla fine del Salone un manifesto il manifesto della democrazia futura un documento scritto con le giovani generazioni per capire insomma anche ancora una volta qual è il futuro in cui varrà la pena di vivere il nostro futuro che è il tempo verbale meno utilizzato il nostro futuro dipenderà qua parliamo di scienza adesso di come saremo in grado di far dialogare il sapere scientifico con quello umanistico quest'anno la scienza il Salone dedica uno spazio importante ci sarà quello che forse è il più famoso in questo momento divulgatore scientifico italiano vale a dire Alberto Angela e poi dallo spazio diciamo così ci sarà Salamanta Cristoforetti che ci racconterà no non dallo spazio verrà effettivamente atterrerà al Salone del Libro di Torino per raccontarci come si vede il mondo della gravità zero nel cinquantennaro dell'allunaggio non sarà l'unica astronauta ci sarà per esempio Linda Raimondo che forse è la più giovane aspirante astronauta che abbiamo sulla piazza e poi avremo anche dei giganti proprio delle scienze dure o anche appunto per quanto riguarda le scienze neuronali Giacomo Rizzolatti Giacomo Rizzolatti è uno dei più importanti neuroscienziati del mondo lui è il papà lo scopritore dei neuroni specchio il quale in un periodo in cui sembriamo perfettamente congegnati per non capirci gli uni con gli altri ecco verrà a parlarci proprio di questo cioè di come gli esseri umani si comprendono o cercano di comprendersi gli uni attraverso gli altri anche a livello neuronale ci sarà con noi anche Guido Tonelli che è altro grande nome della ricerca scientifica Luca Mercalli che insomma è tempo che ci dice che è sempre più tardi abbiamo sempre meno tempo per cercare di salvare in qualche modo il nostro pianeta e poi anche dall'estero dall'estero per esempio arriverà Caspar Anderson Caspar Anderson è l'autore forse qualcuno l'ha visto sotto Natale questo libro ha avuto molto successo l'autore del libro degli esseri a malapena immaginabili che celebra la biodiversità mentre starebbe potrebbe per iniziare stare per iniziare da quella che gli scienziati chiamano la sesta estinzione di massa e poi specie viventi e robot che cosa accadrà tra qualche anno quando l'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva questo ce lo racconterà Roberto Cingolani un altro dei nostri grandi scienziati così come Mark O'Connell che è l'autore di Essere una macchina verrà a parlarci di transumanesimo cioè di essere umano 2.0 e cioè della speranza o del rischio nel caso in cui fosse una speranza soltanto per pochi che la durata della vita umana si allunghi esponenzialmente della rete della rete di internet del modo in cui internet ha cambiato la nostra vita in questi anni ma la cambierà molto più profondamente nel futuro verrà a parlarci invece Alessandro Baricco che alla fine del tour di The Game il suo libro molto fortunato proprio su questi temi verrà a tirare le somme del suo viaggio nel mondo delle reti informatiche e poi sempre parlando di scienza ma facendo proprio un balzo nel passato di alcuni secoli ecco uno dei nostri abbiamo visto anche grandi attori uno dei nostri più grandi attori vale a dire Roberto Erlitzka sarà alle prese con uno dei fondamenti del pensiero scientifico occidentale cioè il dererum natura di Lucrezio anche questo sarà un bellissimo appuntamento il rumore di rotative il rumore di rotative no che editoria veramente a Salone parliamo di editoria abbiamo invitato alcuni fra i più grandi editori del mondo la cosa bella è che hanno accettato l'invito non necessariamente uno accetta sempre l'invito in questo caso quest'anno è successo a proposito di grandi incontri per esempio ecco questa cosa qui voi se siete appassionati di editoria di letteratura o la venite a vedere a Salone quest'anno oppure è difficile come dire che si crei un'altra occasione due grandi dell'editoria europea da una parte Adelphi e dall'altra Anagrama e quindi Roberto Calasso e Giuseppe Erralde si incontreranno e parleranno fra di loro al Salone del Libro di Torino questo per l'editoria europea è l'editoria americana ecco un gigante dell'editoria statunitense va a dire Jonathan Galassi verrà al Salone del Libro e si è messo in maniera molto generosa a disposizione anche per tenere delle lezioni per fare degli incontri e poi dalla Germania Jürgen Boss il direttore della Bookmesse la più importante del fiera editoriale del mondo noi ci arriveremo ma insomma siamo lì vi talloniamo e la chiede di Francoforte anche Jürgen Boss sarà appunto a raccontarci come vede la filiera del libro una grande una grande signora dell'editoria europea lei ha lavorato in Francia ma è italiana Teresa Cremisi appunto verrà anche ospite del Salone del Libro di Torino e poi Joan Diaz che è il direttore editoriale di Penguin Random House e poi il Salone poi istituzioni ed editoria vi ricordate io dicevo sempre no sempre da quando mi occupo del Salone dicevo spesso che sarebbe bene che le istituzioni e gli editori si incontrassero fra di loro gli editori fanno un lavoro eccellente spesso si trovano io questa cosa la ribadisco sempre perché prima o poi entrerà nella testa di tutti si trovano spesso a lavorare in un contesto difficile in ospitale a proposito appunto della Francia basterebbe certe volte copiare dai francesi per quanto riguarda il modo in cui loro proteggono riescono a produrre a proteggere scusate il loro mondo editoriale le libri indipendenti eccetera eccetera allora noi abbiamo chiesto al Ministro della Cultura Alberto Bonisoli di incontrare gli editori quindi insomma loro si incontreranno e speriamo insomma che qualche cosa di buono Nesca perché insomma l'Italia è un paese che ha delle eccellenze editoriali ma sempre insomma i lettori sono pochi tranne al Salone del Libro però come dire un salone non fa non fa primavera dappertutto poi l'informazione le rotative che sentivate prima i direttori dei cinque giornali più più venduti vado a dire Luciano Fontana il Corriere della Sera Carlo Verdelli Repubblica Maurizio Molinari La Stampa Virman Cusenza il Messaggero Fadio Tamburini sono le 24 ore dialogheranno fra di loro sul futuro del paese sempre il giornalismo prima Marco Travaglio Peter Gomez Beppe Severnini Antonio Padellaro e poi ribadisco una cosa anche ludica le feste c'è chi viene a Salone per le feste fondamentale fa bene quest'anno saranno proprio tantissime perché c'è questa cosa qui che molti editori fanno gli anni se l'Edo fa 50 anni EO fa 40 anni Bonpiani non fa 90 anni Bonpiani Labur fa 70 anni i Meridiani Mondadori fanno 50 anni Lindau fa 30 anni l'altra volta ci siamo dimenticati di Lindau ci perdonerete lo diciamo adesso Bao fa 10 anni 25 anni Minimum Fax e Fazzi 20 anni di Faffandango 25 anni la scuola a Older insomma le feste non mancheranno al Salone per chi come dire potrà permetterselo a proposito di insonnia e di capacità di reggere l'alcol si parlerà anche di arte di fumetti di graphic novel domenica ci sarà la consueta lezione domenicale per esempio di Vittorio Sgarbi poi Salvatore Settis e Tommaso Montanari ci parleranno di patrimonio artistico come accesso alla cittadinanza Fripp D'Averio incontrerà i suoi lettori Christian Greco il direttore del Museo Egizio sempre vicino al Salone e lo ringrazio terrà la sua consueta lezione Tullio Pericoli e Matteo Pericoli insieme due illustratori fra i più amati dal mondo del libro poi incontri anche particolari per esempio Zero Calcare da una parte e John Sfar grande disegnatore francese dall'altra anche questo è un incontro che vedete al Salone o che venite al Salone oppure come dire sarà difficile vederlo altrove poi Igort vecchia conoscenza del Salone del Libro di Torino che però quest'anno una sua graphic novel 5 il numero perfetto diventa appunto anche un film e poi Le Ortolani Alessandro Baronciani e tanti altri al Salone facciamo anche un sacco di lezioni il Salone è una specie Roberto Bolagno c'era un libro che si chiamava l'università sconosciuta ecco il Salone è anche un'università sconosciuta perché noi appunto questo anche grazie a Giuseppe Culicchia Festa Mobile prima veniva citata da Presidente Vino e ci sono un sacco di lezioni bellissime che io vi invito a vedere ne dico qualcuna Alessandro Barbero su Guerra e Pace di Tasto l'omaggio di Eraldo Affinati a Mario Rigonister Bruno Gambarotta che saluto perché l'ho visto da qualche parte su Fruttero e Lucentini Pietrangelo butta fuoco sull'elogio del Ribelle poi Diego De Silva Giancarlo De Cataldo De Giovanni Bruno Gambarotta ancora una volta per un grande omaggio a Sime Nonna 30 anni dalla scomparsa a Elena Stancanelli su Anna Maria Ortese Ilaria Bernardini celebrerà Ovidio eccetera eccetera sono tantissime le lezioni io tiro le somme poi vi ho detto soltanto la punta dell'iceberg poi fra qualche ora il 90% ci sarà qualche altra sorpresa ma ve la diciamo nei prossimi giorni perché altri come sapete altri autori questo accade spesso al salone sono in ballo poi entrano alla fine ecco prima di lasciarvi fatemi dire c'è poche considerazioni fatemene fare pure a me un paio la prima riguarda il Bookstock Village che è realizzato grazie al contributo della compagnia di San Paolo che ringraziamo ora il salone sempre di più sempre in maniera più intensa negli ultimi anni dedica agli studenti alla pedagogia alla formazione al rapporto con le nuove generazioni una parte fondamentale della sua attività negli ultimi anni sulla stampa di questo vi ringraziamo molti commentatori hanno elogiato questo progetto culturale per questo vi ringrazio ora però io ho l'impressione che il 2019 nel mondo sia stato l'anno che ha dimostrato come gli adulti siano in debito più che mai nei vostri confronti nei confronti delle giovani generazioni e spesso che gli adulti siano inadeguati a svolgere i compiti e a onorare le responsabilità che noi ci mettiamo sulle spalle cioè io ho l'impressione che quando una sedicenne riesce a mettere nell'angolo i grandi della terra utilizzando soltanto le armi della retorica e scatenando una crisi nervosa qualche volta una crisi isterica fra gli adulti di mezzo mondo beh qualcosa non funziona come dovrebbe allora il bookstock bisogna dirlo ogni anno riesce in qualche modo miracolosamente a creare un patto intergenerazionale che si rinnova anno per anno con le giovani generazioni questo accade perché noi al bookstock facciamo una cosa che di solito non si fa in Italia si fa pochissimo perché in Italia il passaggio del testimone è lo sport meno praticato e siamo come dire una specie di gerontocrazia noi affidiamo a loro una responsabilità cioè affidiamo una parte del programma per esempio il fatto di costruire una libreria per esempio il fatto di costruire gli incontri e devo dire che loro se ne dimostrano sempre degni io per questo li ringrazio perché è ovvio che i giovani devono imparare dagli adulti questo è un dovere sia loro che nostro però accade anche il contrario e questo secondo me noi ce lo dimentichiamo spesso il bookstock diciamo da questo punto di vista è un'isola felice ma il salone del libro per molti versi è un'isola felice poi insomma si sono iscritti più di 20.000 studenti ma non è una questione numerica guardate è una questione di qualità ora dico un'ultima cosa il salone il salone è da sempre al centro dell'attenzione pubblica questa cosa è bellissima ci diverte anche molto siamo sempre in ball balliamo sempre mi sento fredda sterio certe volte pur non avendo come dire la stoffa è oggetto il salone di ammirazione è oggetto di polemiche è oggetto di discussione è oggetto di dibattiti è oggetto di contestazione è oggetto anche di adorazione tutto questo accade fondamentalmente per un motivo particolare perché è un progetto vivo è un progetto vivo è un progetto importante è un progetto capace di spostare qualcosina altrimenti non scatenerebbe tutte queste passioni quindi grazie per l'affetto e grazie anche per le critiche ora ovviamente c'è sempre qualcosa su cui fare polemica prima lo diceva Bino lo diceva pure Silvio e sicuramente il salone non è immune dalle polemiche anzi certe volte noi prestiamo proprio il fianco ma poi ci divertiamo anche appunto a danzare e le discussioni anche accese sono il sale della democrazia e quindi vi ringrazio anche di questo però vi chiedo due cose proprio da direttore diciamo così artistico la prima è per cortesia fate in modo che le polemiche non si mangino sempre i contenuti non lo spazio per le polemiche lo spazio per i contenuti perché i contenuti sono il vero sale del discorso io capisco che parlare di Julio Cortazar o di Abel Ferrara è più difficile perché ci vuole più talento che cavalcare le polemiche sulle sale dicevo che cavalcare le polemiche sulle sale o cavalcare le polemiche su un rubinetto che perde però non cadete nell'inganno di pensare che i lettori si eccitino più per un rubinetto che perde che per un premio Nobel perché altrimenti perché altrimenti si finisce per amare più l'idraulica che la letteratura e quindi come dire non è il caso la seconda cosa sempre come dire a livello di discussione intorno al salone io capisco che ci sono tutti i giornali questa cosa è anche bella quindi io dico una cosa anche contro un piacere mio perché a me stare al centro di queste cose qua piace però altra cosa cortesia non strumentalizzate le polemiche a scopi politici amici della stampa ed elettorale perché lo so che ci sono le lezioni però non usate il salone come scudo umano da questo punto di vista perché poi la parte umana dello scudo siamo noi questa è la seconda cosa la terza ma questa l'ha già detta il presidente Bino investite sul salone più e meglio di quanto non abbiate fatto in passato perché nessun territorio cresce se non scommette su se stesso è come dire su questo territorio un'altra manifestazione di questa portata e di questo tipo non esiste quindi io l'altro giorno dico una cosa l'altro giorno così un po' di io l'ho detto pubblicamente che l'avrei fatto questa cosa qui quindi lo dico perché è una scommessa mi piace scommettere sul salone quante volte abbiamo scommesso ho fatto una scommessa sulle sale con Pierpaolo Lucano di Repubblica gli ho detto allora guarda se alla fine non ci saranno le sale ti pago una cena a cambio se invece le sale ci saranno ci paghi a tutti quanti una cena a cambio e siccome so come andrà a finire io sto già scegliendo i vini più costosi ora passatevi qualche battuta ci divertiamo anche un po' ora il salone del libro è una delle manifestazioni più importanti d'Europa se Torino e il Piemonte vorranno contare qualcosa nei prossimi anni non potranno non investire in istituzioni come questa questo vale per il mondo delle istituzioni non soltanto per le istituzioni locali anche per le istituzioni nazionali in un modo diverso vale per il mondo dell'informazione che quindi viva le polemiche però io esorto tutti quanti a uno sforzo di maturità e vale anche per il mondo dell'imprenditoria e della classe dirigente perché come dire coltivare il proprio orticello e basta sulla lunga distanza fa sì che questo orticello si restringa sempre di più e quindi come dire la vostra per quanto mi riguarda come dire che vengo da un mondo io valuterò anno per anno fin quando qua rimango la vostra affezione da classe dirigente non della gente comune al salone dal numero degli sponsor più cresceranno e più voi state scommettendo sul vostro territorio se non volete come dire se non vogliamo essere marginali noi abbiamo i numeri per essere centrali credo che insomma lo stiamo dimostrando ora il salone soprattutto è un patrimonio nazionale l'Italia ha nella propria tradizione culturale uno dei suoi punti di forza il salone di Torino è la fiera editoriale nazionale di conseguenza il bene del salone da questo punto di vista è anche il bene del paese e almeno su questo secondo me un richiamo all'unità e all'impegno dovrebbe essere per chi lo ascolta non soltanto un dovere ma anche un piacere che è il piacere di farne parte vorrei che tutti leggessero diceva Gianni Rodari non per diventare poeti o scrittori ma perché nessuno sia più schiavo e io è questo che vi auguro che il sole splenda sul salone internazionale del libro di Torino grazie 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 maestro Dave e grazie Anna mentre scegliamo i vini più costosi ringraziamo Prom Peru e l'ufficio commerciale del Peru di Milano per il pisco che vi invitiamo tutti a bere in fondo intanto noi guardiamo la carta dei vini e ringraziamo anche il teatro Espas grazie a tutti buona bevuta grazie 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 a tutti